Che ne siano consapevoli o meno, tutte le persone creano un monologo interno come una sorta di continua osservazione dei propri pensieri. La differenza è in come ci parliamo. La mentalità fissa crea un monologo interno che si concentra sul giudicare. Al contrario, la mentalità di crescita si pone domande costruttive. Proviamo ad immaginare cosa si direbbero i due mindset in un dialogo. Mettiamoli a confronto in alcune situazioni tipiche. Il mindset fisso dice Sei sicuro di poterlo fare? Se rinunci puoi proteggerti e mantenere la tua dignità. Il mindset di crescita risponde Non sono sicuro di poterlo fare ora, ma posso imparare con impegno. Se non provo, fallisco automaticamente. Dov'è la dignità in questo? Il mindset fisso dice Se avessi davvero talento, sarebbe stato un gioco da ragazzi. Il mindset di crescita risponde Il basket non è stato facile per Michael Jordan e la scienza non è stata facile per Thomas Edison. Avevano una passione e hanno continuato fino a farcela. Il mindset fisso dice Se ti stanno dicendo così, forse te lo meriti. In fondo lo sai anche tu, vero? Il mindset di crescita risponde Ascolto i consigli, sì, quelli detti per essere costruttivi. E anche le critiche, sì, le accetto. Se sono dette per migliorarmi.